straordinaria vanessa ferrari medaglia d'argento alle olimpiadi di tokyo un risultato magnifico per l'atleta azzurra capace di sorprendere tutti nel corpo libero ottenendo 14.200 punti carei prima la statunitense con 14.366 punti al terzo posto si è classificata un atleta giapponese per restare aggiornati sulle olimpiadi di tokyo continuate a seguirci in massa mettete un like ed iscrivetevi al nostro canale grazie per l'attenzione al prossimo video non dimenticate di attivare la campanellina grazie